Siracusa verde in città è il timore di poca manutenzione, la cura ai privati in cambio di promozione aziendale. Una delle principali obiezioni mosse contro le nuove alberature di strada e marciapiede a Siracusa sarebbe legata ai timori sulla successiva manutenzione. Eppure la manutenzione e cura del verde cittadino, oltre all'intervento del pubblico, potrebbe giovare dell'aiuto del privato, grazie al regolamento per la sponsorizzazione aree verdi pubbliche del comune di Siracusa. Regolamento frutto di quasi un anno di lavoro portato avanti da Assessore alla Protezione Naturalistica e Forestazione, uno strumento ad oggi mancante che permetterebbe ai privati di adottare, mediante una procedura ad evidenza pubblica e partecipata, parchi, vasi, aiuole, panchine, fontane, rastelliere per le bici, cartellonistica informativa interna delle aree verdi, giochi per bambini e alberi. Così, grazie al regolamento, i privati in forma singola associata potrebbero prendersi cura, sostenendo i costi annuali delle lavorazioni da affidare a ditte specializzate, della manutenzione dei giochi per bambini, dei prati, degli impianti di irrigazione delle panchine e degli stessi alberi, pulizia e potatura, in cambio di una targhetta riportante il proprio luogo, al fine di promuovere l'azienda e o il consorzio. Peccato che il regolamento citato dall'ufficio a dicembre 2021, con proposta numero 63 del 30 dicembre 2021, in conformità a quanto posto come obiettivo nel DUP 2021, attende ancora la firma del Commissario e oggi, luglio 2022, risulta perso nei meandri della burocrazia. Oltre sei mesi, senza avere nessuna notizia, nessuna pubblicazione della delibera del Commissario straordinario, al quale non è dato sapere se sia mai pervenuta sul tavolo la proposta dell'ufficio. Così, mentre aziende e associazioni chiedono da anni di poter sponsorizzare pianti, vasi, rotatori e panchine alberi, ci si accontenta di mantenerne il degrado, lasciando che si faccia a strada l'idea che è meglio eliminarlo il verde che prendecene cura. Questa è la dichiarazione di Carlo Gradenigo, Presidente di Lealtà e Condivisione. Grazie a tutti.